290 migranti sono stati salvati dalla nave Aliseo della Marina Militare inserita nel dispositivo aereo navale Mare Sicuro. I migranti erano stipati in tre gommoni alla deriva a largo delle coste libiche. Il terzo intervento ancora in corso ha visto l'equipaggio di nave Aliseo salvare 74 migranti da un gommone in affondamento recuperando sei salme. L'elicottero di nave Margottini continua le ricerche di eventuali dispersi. Grazie a tutti.